comincio questo video dicendovi scusa se sentite una voce nasale perché ho il raffreddore purtroppo sono i mali di stagione e se sentite qualche rumore di sottofondo è perché o i miei figli o mia moglie si stanno muovendo dentro casa e quindi qualcuno di voi in alcuni miei video sotto i commenti hanno scritto Enrico ma che rumori li sono dentro la tua casa e non vivo da solo ragazzi c'è la mia famiglia perciò non ci fate caso però io voglio parlare di una notizia che oggi ho letto come al mio solito che guardo tutte quelle più importanti dei siti web e nella fattispecie di sport mediaset praticamente la gente di Tiago Motta ha enunciato così si dice no ha tirato fuori delle frasi delle parole che a me hanno indispettito pur essendo un tifoso della roma come potete vedere dalla mia maglietta che non ho ancora tolto perché ho pubblicato adesso un video su tiktok se ti fa piacere venimi a seguire anche su quell'altra piattaforma oppure su instagram qua sotto ti lascio il link in descrizione quindi adesso parlerò e argomenterò con voi questa questa frase questa neanche so come chiamarla sinceramente ragazzi non lo so adesso sentirete e voglio la vostra opinione qua sotto cosa ne pensate di questa frase perché alla fine è una frase ragazzi però benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che ti ringrazia tantissimo per i like per le iscrizioni e per i commenti alzo un pochettino la voce perché voglio coprire i rumori di sottofondo non mi vado di ricominciare il video ragazzi scusatemi quindi parliamo di Tiago Motta però quello che ha diciamo rilasciato l'intervista è il suo procuratore praticamente il giornalista gli ha domandato quale fosse il futuro di questo allenatore che si sta comportando abbastanza bene col Bologna dobbiamo dirlo sta la sta facendo giocare in una maniera moderna i calciatori riesce a fare esprimere ai propri calciatori la migliore parte di se stesso no le qualità tecniche vengono alla luce con questo ex calciatore ex campione perché ha vinto tantissimo e quindi alcune squadre alcuni club internazionali sono attenzionati lo vorrebbero nel proprio club come allenatore ed è giusto che sia così perché è un tecnico emergente e quindi è normale che ha mercato ragazzi intanto mi si sta chiudendo il naso come non mai però non posso mettermi le gocce adesso in presa diretta lo farò dopo scusatemi per questa per questa mia voce un po' nasale comunque andiamo al succo del discorso la gente di Tiago Motta respinge seccamente al mittente le voci relative a un possibile passaggio a Napoli del suo assistito assistito a fine stagione Tiago Motta non conosce ancora il suo futuro ma sicuramente sentite non sarà a Napoli non sarà a Napoli e fin qui ci può stare no per carità non è che Napoli adesso non verrà più allenato da 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 nessun altro no prenderà un altro allenatore Napoli sempre se non rimanesse Mazzarri eh perché mai dire mai potrebbe rimanere Mazzarri ha spiegato il signor Dario Canovi ai microfoni di Radio Kis Kis Napoli quindi vi cito anche la fonte sentite eh a me questo prendo un po' di respiro non verrebbe a Napoli non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkze e Calafiori ha altri progetti per il suo futuro ma io dico ma come ti permetti come ti permetti ma che stai parlando di una di un club di una società che è l'ultima arrivata ragazzi guardate io per quale squadra appartengo però il rispetto per i tifosi il rispetto per le società per i dirigenti per i manager deve essere per tutti e questo signore Canovi si permette di dire che altri progetti non verrebbe mai a Napoli pure se ne prendono Zirkze e Calafiori ma come cosa ti viene in mente cosa ti ce l'hai il sale nella zucca signor Canovi e non mi permetto di insultarla ci mancherebbe perché io porto rispetto a tutti ma lei su quale basi su quale note musicali faccio questo esempio perché per me è una menestrellata questa no questo è il menestrello come diceva Garzia forse vuole fare arrivare questo messaggio a qualcuno non lo so però secondo me non deve prendere in giro perché questa è una presa in giro i tifosi del Napoli in Napoli città e i suoi dirigenti secondo me ha proprio sbagliato mi dispiace non è una frase che dovrebbe dire un professionista un addetto ai lavori lo potrei dire io che non sono nessuno sono un personaggio che pubblica i video su youtube così no tanto per passione e non mi permetto io di dirlo come poteva essere l'Inter poteva essere la Juve poteva essere il Milan la mia Roma la Lazio e a volte non non faccio neanche gli spottò nei confronti della Lazio che si potrebbero fare no sapete la rivalità tra Roma e Lazio perché è una sorta di rispetto per chi è tifoso come me oppure lavora nel club della Lazio come altri altre squadre altre formazioni ci vuole rispetto cioè non verrebbe a Napoli nemmeno se dei laurenti si ricompressa il zirc se e il calafiori come di può fare come te pare tanto io non ci vengo a a Bologna a Napoli non ci vengo a Napoli può fare quello che ti pare può dare pure le capocciate al muro a Roma se dice così tanto non ci vengo ho altri pensieri ho altri traguardi io a Tiago Motta tanto se parla così Dario Dario Canovi vuol dire che anche Tiago Motta la pensa a questa maniera se no non si permetterebbe mai il signor Canovi a dire queste frasi o quantomeno verrebbero smentite dall'allenatore Tiago Motta gli direbbe fly down Canovi non vado a Napoli perché magari voglio ho un accordo con un'altra squadra voglio rimanere a Bologna inventate un'altra cavolata invece di dire ste stupidaggini no ma che figura ci fai che figura ci fai barbina proprio barbina io non lo so ragazzi forse sarò esagerato io non lo metto in dubbio però io tifoso io addetto ai lavori io lavoratore dipendente presidente e chi più ne ha più ne metta del mio club mi sento dire da un picco pallino qualunque anzi no vabbè magari Dario Canovi è una persona diciamo stimata nell'ambiente però diventi un picco pallino qualunque se parli in questa maniera ragazzi ma ci vuole rispetto nel calcio come nella vita secondo me è così poi come vi ho detto sarò esagerato sarò esagerato però sono fatto così non so come la pensi tu scrivilo qua sotto se ti va lascia un like a questo video se ti va iscriviti al canale attiva la campanella delle notifiche non ce la faccio più a parlare ragazzi ho tutte e due le narici attappate mamma mia che brutto quando è così però lo volevo fare questo video lo volevo condividere con voi soprattutto voglio sapere il vostro pensiero e niente buonasera da tutti dal vostro Enrico Caffarelli ciao